11esimo torneo e trofeo Davide Brodi, qui siamo a Piosina, immancabile l'appuntamento tra fine settembre e inizio ottobre. Siamo con Fabio Castellani che da sempre ha tirato le fila unitamente ad altri tanti amici di questo torneo. Anche quest'anno è andata bene? Sì, anche quest'anno grazie all'aiuto della società rionale Piosina abbiamo potuto organizzare questo torneo. Un torneo che vede coinvolte quattro squadre del campionato amatoriale, anche un pre-partita per il campionato che verrà fatto adesso il mese di ottobre. Immancabili sempre tanti amici, tanti conoscenti e tanti di coloro che vogliono comunque ricordare Davide. Sì, è un momento importante per ricordare un amico che ci ha lasciato troppo presto e anche un'occasione per poter far del bene. La sera praticamente viene organizzata una cena presso la società rionale di Sampio dove il ricavato viene devoluto in beneficenza al centro accoglienza di Giove. Ricordiamo anche le quattro squadre, quindi le quattro società che anche quest'anno hanno certificato la bontà del torneo? Sì, i Mary Brothers, il Cosmos Sampio, gli Amatori Lama e il Piosina Calcio. Ogni anno ci rivediamo e l'undicesimo anno Davide non c'è mai come se ci fosse. Come sempre tanti amici, signora Silvana in un ricordo che lo fa rimanere ancora vivo perché vedo sempre tanti sorrisi. Sì, è vero. Davide è qui in mezzo a noi. Poi oggi ci ha aiutato anche questa bellissima giornata. Questi ragazzi che partecipano volentieri, io li ringrazio tutti. Veramente, mi fa tanto piacere che tutti gli anni si ritrovano in nome di Davide, fanno una bella festa, loro si divertono, lo ricordano. E in più fanno anche qualcosa di veramente buono perché stasera ci sarà una cena, il cui ricavato andrà in beneficenza. E questo mi fa piacere perché Davide mi sembra che vive e aiuta comunque i più bisognosi che sono ancora qua. E infatti il ricavato andrà alla casa d'accoglienza di Giove, come tutti gli anni. E speriamo insomma di aiutare anche questa associazione in nome di Davide. E allora, come sempre, ma di cuore, grazie per il bel sorriso. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti, grazie agli amici, a chi parteciperà stasera alla cena, grazie a chi ha fatto la cena, ha cucinato per noi e per tutti. E grazie a tutti. Cristian Fiori, presidente del gruppo sportivo Piosina, oggi è il padrone di casa per un bel torneo che si rinnova ogni anno. Il tempo ha aiutato, penso che tutte le componenti ci siano state, anche il gioco. Sì, ora stanno facendo la finale qua, il risultato mi sembra che è uno a uno, però in queste situazioni il risultato poi è sempre secondario. La nostra società tutti gli anni ospita questa manifestazione, siamo orgogliosi perché poi è uno sfondo sociale per ricordare un amico di tutti. Come hai detto tu, la giornata si è aiutato, ora speriamo anche di vincere. Il Piosina mi sembra che due anni fa l'ha vinto, l'hanno scorso non l'ha vinto, ora vediamo un po', siamo alle fasi finali insomma. Anche se il lama è sempre ostico. Eh sì, gira che ti rigira, ce lo troviamo sempre o in finale o in semifinale, ma bene così, è una rivalità che comunque sia aiuta nel proseguo di questo torneo. E poi è giustamente, è lo spirito giusto in questo torneo. Certo, ora credo che siamo alle battute finali, no? Sì, sì, poi avremo anche la premiazione finale. Sì, sì, abbiamo la premiazione finale, ci sono i genitori del nostro amico Davide, c'è stato anche un folto pubblico, ora vedo che però un pochino è andato scemando. Però dai, è una bella giornata che speriamo anche anche il prossimo anno di accogliere questa manifestazione.